Non sei stanco di doverti inventare sempre tutte ste storie? Massimo! Massimo! Eccolo Massimo! A me quando mi chiamano col nome di un altro... Francesco! Ti giuro mi fai impazzire. Francesco! Francesco! Sommi! Belle persone che sei. Le chiavi di casa di mamma, se vuoi andare a prendere le tue cose. Permesso? Buongiorno, sono la nuova vicina. Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei. A persone come me? Sì. Vedi Alessia vicina di casa? Un pezzo di... Ma dai, non mezzo di caso. Dai, eh. Cioè, da fare domenica? Ti va di venire a pranzo da mio genitore in campagna? Lei è mia sorella, Chiara. Avevi puntato la ragazzina e invece ti tocca la paralitica. Quello che sta facendo non si fa, dottore. Quella donna non è stupida. Ciao. Ciao. È strano, sembra che tu sia in piedi. Io? No. Perché dici così? Tu adesso vedi mia sorella e le dici la verità. Ci ho provato. Ti giuro, non è facile. Ci siamo in castiglia. Scusate. Per una donna come lei l'ottimismo è che l'amore duri più a lungo possibile. Per me che arrivi. È molto più coraggiosa di me. È molto più forte. Ma dire la verità. Sono io che mi sento una merda, hai capito? No, tu sei una merda. È bello sentirsi amati, o almeno crederci. Io a questo non ero pronto. Non dormo più. Mi fa sentire intera. E che mi guarda come si guarda una donna.